Beh, la parte del testamento e dell'eredità è sicuramente un argomento e un settore particolarmente complesso. A Litviella ci sono degli specialisti che gratuitamente spiegano come muoversi in questo ambito quando si prevede di fare una donazione a Litviella. Rimane il fatto che fare testamento in favore di una onlus è sempre comunque un gesto generoso e un gesto fatto col cuore. Certo, sono d'accordissimo. In più è anche un gesto opportuno perché permette di pianificare la propria successione, magari anche evitando controversie fra gli eredi successivamente. Il testamento è un atto semplice perché è facile da scrivere, ma contenuti possono essere un po' più complicati e potersi avvalere di una consulenza il più possibile qualificata sicuramente è un grandissimo aiuto.